Ancora violenza tra giovanissimi, teatro dell'aggressione, a pugno in faccia, nuovamente la zona del parcheggio Pietri, proprio dove alcuni giorni fa un sedicenne non vedente era stato preso a botte da alcuni coetanei mentre difendeva un amico. L'ultimo episodio invece risale a ieri sera, quando un gruppo di ragazzi è stato aggredito da una baby gang di circa 10 coetanei vicino alle scale mobili. Senza un vero motivo, prima sono stati aggrediti verbalmente e poi si è passati dalle parole ai fatti ed un giovane è stato preso a pugni. Immediata la segnalazione dell'aggressione agli agenti delle volanti e della squadra mobile della questura di Arezzo, in zona per i servizi di controllo predisposti per contrastare i fenomeni di violenza giovanile. I poliziotti sono così riusciti ad individuare il gruppo degli aggressori e soprattutto colui che aveva sferrato i pugni. È stato raggiunto dagli agenti bloccato con molta difficoltà, ha infatti cercato di divincolarsi spintonando gli operatori che hanno dovuto fronteggiare anche i tentativi di liberarlo da parte del gruppo di amici. Proprio in queste fasi coincitate sono stati bloccati ed accompagnati in questura anche due minorenni denunciati per resistenza pubblico ufficiale. Il 19enne invece è stato trovato in possesso di un collo di bottiglia di birra di vetro e di circa 30 grammi di hashish suddivisi in quattro pezzetti. È stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale aggravata, detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per il rifiuto di fornire le generalità e portodarmi atti ad offendere.